A me si vuoi, è un po' più odio, ma io ne sai, a non morire. Oggi non ti vengono amare, che diceva tanto, un'idea, che fa sopra la sti, ma le diceva tanto. I elementari, qua ci sono le medie e poi le superiori, qua ci manca solo l'università per riempire quasi a metà l'intero palazzo dello sport, prenotati 2.500 ragazzi quest'anno, quindi una grande mattinata di festa. Perchè mi chiede, perchè mi chiede, perchè mi sono i ramati, perchè non, non lo so. Ma sei tu, Chicago Come on Baby, don't you wanna go So come on, baby Baby, don't you wanna go Back to the same old place Ma sei tu, Chicago Yeah I wanna wanna sue Do it to a sport Come on my baby, won't you play for summer Yeah So baby, don't you wanna go Ma perchè bisogna essere amati? Bisogna essere amati? Perchè è meglio, quando ti odiano ti danno un fracco di botte, quando ti amano forse, forse, forse te la cavi ancora con un bacetto, una guarda davvero. E' meglio, un puro gelato, un buro gelato, un buro gelato. Eh, sono grosse domani, non ci ha raggiunto. La prova di salini, ragazzi. Buon attuale. Ma sei tu, Chicago Ma sei tu, Chicago Ma sei tu, Chicago E il radio girava, trasmette musica e balcani che vengono E il radio girava, trasmette musica e balcani che vengono E il radio girava, trasmette musica e balcani che vengono E il radio girava, trasmette musica e balcani che vengono E il radio girava, trasmette musica e balcani che vengono Perciò è importante che i ragazzi conoscano che poi diverso non ci è, semmai sono quelli che non capiscono che possono essere diversi. Perciò è importante farlo. È così, 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 è Grazie. 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 Grazie.